Primavera felice per il turismo a Napoli, che negli ultimi mesi ha fatto registrare incrementi molto positivi anche grazie agli eventi spettacolari e culturali che hanno avuto luogo in città e alle numerose proposte d'arte che invogliano visitatori dall'Italia e dall'estero. Consegnate questa mattina le pettorine distintive per i primi ragazzi selezionati per il progetto Welcome to Naples, 60 volontari di 18 associazioni di protezione civile che si distribuiranno fra la stazione, il porto e i principali itinerari turistici cittadini per offrire una prima accoglienza ai turisti in città. Saranno lungo le strade di maggiore afflusso turistico per fornire un servizio, innanzitutto per poter accogliere e poi dare anche qualche indicazione utile. Considerato che siamo davvero in pieno boom turistico, anche i dati di questo fine maggio e ponte di giugno ci danno dati di una quasi totale occupazione di tutte le strutture ricettive, quindi consolidiamo una tendenza che dura ormai da mesi e la ripresa turistica di Napoli è una grande realtà e un dato significativo penso anche per tutta l'Italia. I volontari offriranno informazioni utili ai turisti per muoversi e alloggiare in città e saranno una sorta di occhio intelligente sul territorio per registrare le eventuali criticità e riportarle agli uffici responsabili.